Ecco, le salite questa volta ci sono state, un'altra volta, anzi qualcuna addirittura anche più aspara e più difficile da scalare. Però che cosa mi anima? E' quello che poi è anche il lavoro quotidiano da un bel po' di giorni in qua. Era passata da poco Pasqua quando ho ricevuto questa proposta di tornare appunto a Sanremo e fare ancora un'edizione del Festival. E di circondarmi della squadra, tranne qualche cambiamento e arricchimento che l'anno scorso c'era, e di pensare a questo Festival come se noi fossimo dei servitori del Festival, di metterci al suo servizio, di cercare di curarlo come una creatura, una creatura che è fragile perché esprime, si basa sull'arte più piccola e più povera della musica in generale, che è la forma della canzone. Però la stella polare è sempre stata quella che già è contenuta nello statuto. Io che sono fedele alla Costituzione di Sanremo continuerò a pensare che questo è il Festival della canzone italiana. E in tutto questo credo che questo primo articolo sia raccolto tutto il lavoro che stiamo facendo.